La Giunta regionale ha approvato il programma annuale degli interventi in materia di politiche giovanili per il 2014. In totale sono stati stanziati 470.000 euro che andranno a finanziare specifici progetti. Vengono promosse, ha spiegato l'assessore regionale Paola Giorgi, centralità e trasversalità di politiche specifiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività. Un programma innovativo, in parte già sperimentato nel corso dell'ultimo anno, quando sono stati finanziati sul territorio 20 progetti di interesse locale e 13 proposti dalle associazioni giovanili. Le linee di intervento definite dal programma riguardano lo sviluppo di competenze sociali, la promozione dell'autonomia, della responsabilità e della partecipazione. I progetti potranno essere di interesse locale, cioè presentati da enti, esclusivamente in forma aggregata, con presenza di almeno un comune sotto i 5.000 abitanti. Altra tipologia di progetti prevista è a carattere regionale, con protagonisti, associazioni e organismi giovanili che dovranno elaborare progetti di ampio impatto territoriale. Previsti anche progetti gestiti direttamente dalla Regione, quale informazione che prevede, una serie di incontri sul territorio rivolti ai giovani per presentare la nuova programmazione regionale con attività informativa e formativa per la partecipazione alle azioni previste dal programma stesso.